Buongiorno Davido, alla fine sembra che stia per finire un'altra parabola che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'open source, il mercato IT in generale negli ultimi mesi, ed è quella di Ashicorp. Ricordate la vicenda di Ashicorp con Terraform che da prodotto open source diventa prodotto non proprio open source, con l'adozione della licenza BSL, quindi Business Source License, e conseguente Fork di Terraform che diventa prima OpenTF e poi rinominato OpenTOFU, viene preso sotto l'egida protettiva della Linux Foundation e cui sviluppo continua e continua ancora oggi con tante aziende che lo supportano. Bene, Ashicorp, quella stessa azienda da cui tutto è partito, insomma si è trovata in guai abbastanza grossi, almeno a livello finanziario negli ultimi mesi, facendo fatica proprio a sostenere le spese, tanto da ricercare un compratore. Era questo che si diceva, erano i rumor che circolavano, insomma che Ashicorp stesse cercando di farsi acquisire da qualcuno, beh questa acquisizione è arrivata, ora lo sappiamo, Ashicorp diventa ufficialmente parte di IBM. È IBM che l'ha acquisita, BigBlue, una delle più antiche aziende IT tuttora esistenti, insomma si è fagocitata Ashicorp e quindi va a diventare parte del suo portfoglio. E quindi poi il CEO di IBM, Arvid Krishna, ha parlato di come Ashicorp andrà a rimpolpare l'offerta ai propri clienti, soprattutto in ambito hybrid cloud, insomma non farà parte di Red Hat, che è già nel portfoglio di IBM, ma insomma aiuterà vari servizi, vari offerti IBM nel suo portfoglio cloud. Tra l'altro ha nominato anche l'AI generativa, per qualche motivo, è una buzzword del 2024, qualunque cosa tu faccia sul mercato, se ci butti dentro generativa AI qualcuno ti ascolta un po' meglio. In realtà non pare che gli investitori l'abbiano poi così tanto gradita questa cosa, visto che il valore delle azioni di IBM al momento di questo annuncio era sceso leggermente, però vabbè, insomma queste sono magari scossone del mercato che ci interessano di meno. Quello che ci interessa è che al momento Ashicorp diventa ufficialmente parte di IBM, quindi Terraform continuerà probabilmente il suo sviluppo sotto l'egida di BigBlue, OpenTofu invece rimane in Linux Foundation come progetto open source. Peraltro, piccola nota, Ashicorp aveva mandato una lettera di cease and desist, quindi di terminare completamente lo sviluppo di OpenTofu, proprio perché aveva sostenuto e sosteneva che pezzi del codice di Terraform, quando già era sotto licenza BSL, erano finiti in OpenTofu open source, quindi violando i termini della licenza di Ashicorp, appunto di Terraform. Ma OpenTofu ha risposto che questa roba non è vera, non ci sono assolutamente parti di codice protetti da BSL in OpenTofu, adesso vediamo come proseguirà questa vicenda, però per il momento, insomma, la risposta è stata che cosa dite? Non è vero, tutto falso, fake news, non c'è codice protetto da BSL nel nostro repo open source di OpenTofu. Ebbene, questo era per dare un update a una vicenda che abbiamo seguito molto negli ultimi mesi, Terraform, OpenTofu, Ashicorp, insomma, pare che si passi a un nuovo capitolo, ora con Terraform parte di IBM, e oggi invece parliamo di un progetto open source che rimane open source ed è open source da molto tempo, e si tratta di Ubuntu che ci delizia con la sua nuova release ufficiale LTS. E quindi eccoci qua con Ubuntu 24.04 LTS disponibile al download, in realtà disponibile da qualche giorno, ma noi siamo stati in ferie per qualche giorno, quindi recuperiamo oggi, e il codename di Ubuntu 24.04 è Noble Numbat, quindi il nobile Numbat, sapete che cos'è il Numbat? Eccolo qua, il Numbat è noto anche come formichiere fasciato, formichiere marsupiale o walpurti, è un marsupiale dell'Australia occidentale. La sua dieta consiste quasi esclusivamente di termiti, è un tempo diffuso in tutta l'Australia meridionale, ne rimangono solo piccole colonie, quindi è una specie in pericolo. È uno degli emblemi dell'Australia occidentale ed è protetto da vari programmi di conservazione. Eccolo qua, il Numbat, vedete? Un meraviglioso piccolo marsupiale. Insomma, a parte queste curiosità, Ubuntu 24.04 è LTS, quindi ha 5 anni di update garantiti alle app core, le app selezionate, più le security fix, i kernel upgrade e altre robe, e in più 5 anni di security coverage extended da Ubuntu Pro, naturalmente il programma a pagamento di Canonical, e in più i clienti enterprise possono comprare due anni addizionali di coverage, portando la coverage garantita degli aggiornamenti in totale a 12 anni. E quindi il regno di Nobel Lumbat si estenderebbe fino al 2036. Quindi cosa c'è di nuovo in 24.04? Intanto, se state guardando, c'è qualche screenshot in giro dal post di OMG Ubuntu. Insomma, vediamo un po' la lista delle changes più significative, a partire dalla 23.10, che è la release non LTS, diciamo, che è uscita l'anno scorso. Quindi queste sono le changes non dall'ultima LTS, ma dalla 23.10. Se volete le changes dall'ultima LTS, vi consiglio un altro blog post di OMG Ubuntu, che si intitola Le 20 changes maggiori di Ubuntu, in 24.04, e lì ci sono proprio tutte. Allora, partiamo invece dal più evidente, il primo cambiamento evidente che vedrete, ed è l'installer, il nuovo installer. Quindi è un installer basato su Flutter, e tra l'altro, oltre a cambiamenti di livello grafico, insomma, in questo installer, c'è un cambiamento significativo a livello funzionale, perché adesso si può fare provisioning dell'installazione utilizzando dei file YAML. In pratica, durante l'installazione potete fornire un file YAML, un file di configurazione YAML, locale o remoto, proprio per automatizzare alcuni passaggi dell'installazione. Quindi, naturalmente, le configurazioni che dovreste inserire manualmente durante l'installazione possono essere preconfigurate, appunto, da un file YAML, fino alla creazione degli utenti, che quindi poi arriverà in una fase successiva all'installazione. Poi, questo provisioner automatico verrà ulteriormente migliorato nella versione 24.10, che vedremo quest'autunno. Naturalmente, come dicevo, anche il look and feel UI generale di questo installer è stata migliorata, ci sono delle nuove illustrazioni per ogni step di fianco alle normali descrizioni testuali. Inoltre, le opzioni di accessibilità sono state aggiunte come secondo step. C'è anche una guida avanzata all'installazione via ZFS. Ora, ci sono anche cambiamenti nei software. Ubuntu 24.04 ha di default un'installazione minimale, un profilo minimale di installazione, che è una cosa che era stata introdotta nella 23.10. Quindi, selezionando questo profilo di installazione minimale, ci sono pochi software essenziali preinstallati. Per esempio, c'è Mozilla Firefox, c'è l'App Center, c'è il Text Editor, alcuni System Utilities. Se invece si opta per un'installazione expanded, arriva con molto più software. Naturalmente, quindi, con LibreOffice, ReadOnBox, GNOME Calendar, un video player, eccetera. E, selezionando anche l'installazione estesa, si può vedere che Snapshot rimpiazzerà Cheese come app per la webcam. Ora c'è Thunderbird, presente come email client, con il suo Snap Package. E, inoltre, sono stati rimossi i GNOME Games. In generale, comunque, poi, per il resto, le app di Ubuntu rimangono più o meno le stesse. Ci sono altri miglioramenti. C'è una cosa curiosa e carina. Ora, di default, Ubuntu supporta il formato delle immagini HEIF, HEIC, insomma, quei formati che sono usati dagli smartphone, soprattutto per le immagini. Quindi, importando le immagini, diciamo, non compresse in JPEG dagli smartphone, Ubuntu è in grado, by default, di leggerle. E, quindi, anche le thumbnail sono visibili proprio nella navigazione di Nautilus. Inoltre, ci sono dei nuovi profili di risparmio energetico per i laptop, soprattutto sui laptop AMD. Quindi, di default, lo stato balanced, ora, riesce, insomma, a migliorare lo sfruttamento della batteria. E, in generale, nei vari profili, il consumo, lo sfruttamento della batteria è stato migliorato. Poi, naturalmente, arriva GNOME 46. E, per tutte le modifiche, i miglioramenti a GNOME 46, vi rimando alla puntata del podcastone di qualche giorno fa, in cui proprio ne abbiamo parlato. Ma, naturalmente, ci sono novità, soprattutto sulla navigazione, su Nautilus, sulle preference di sistema. Insomma, ci sono un po' di cambiamenti a GNOME 46, che vi consiglio di andare a vedere se siete interessati e non ve li ricordate o non li sapete. E, poi, c'è il nuovo Linux Kernel 6.8, che ha vari migliori. Naturalmente, anche di questo un po' ne abbiamo parlato. Ora, per esempio, le CPU Intel raggiungono la frequenza di clock massima che dovrebbero raggiungere, non sono cappate un po' sotto. C'è il supporto ai controller di Nintendo Switch Online, ci sono alcuni fix al Wi-Fi, un miglioramento alle prestazioni di Z-Swap e anche altre cose. Poi, naturalmente, ci sono anche i vari tweak che Ubuntu fa al Kernel. E c'è da notare, su questo poi ci torneremo, che AppArmor limita l'installazione di app di terze parti, che non sono configurate in un certo modo, by design. Quindi, in nome della sicurezza, insomma, non è possibile scaricare dei pacchetti dev da web e installarli, così, dall'app store ufficiale di Ubuntu in 24.04. Su questo poi ci sono delle polemicuzze che vado a vedere. E, naturalmente, è possibile farlo se i dev configurano l'app per utilizzare il confinement di AppArmor. Questo è il perché Ubuntu limita l'installazione di queste app. Sono profili AppArmor, però questa roba può, naturalmente, impattare le funzionalità dell'app, quindi non è detto che tutti lo faranno. Ci sono dei workaround, per esempio, si può anche disabilitare interamente questa opzione, però, insomma, diciamo che non è una cosa alla portata dell'utente medio. Oltre alla nuova Ubuntu Desktop, ci sono anche, naturalmente, Ubuntu Server, poi c'è la versione per Raspberry Pi e la versione VSL per Windows. Ognuno di queste, naturalmente, ha qualche piccolo cambiamento per essere proprio perfetta, perfettamente ritagliata sul target per cui viene compilata. Anche su XFOS del 25 aprile trovo un po' di, insomma, novità su Ubuntu 24.04. Non c'è molto di nuovo, diciamo, da fare. Vedete alcuni nuovi screenshot dell'installer e anche, miglioramente, la user interface, che in generale sono dovuti soprattutto a Gnome, i nuovi wallpaper. Ci sono un po' di nuovi wallpaper, naturalmente, fatti dai designer ufficiali di Ubuntu, delle applicazioni che vengono aggiornate, più vari altri cambiamenti, vari altre personalizzazioni fatte da Canonical, proprio per Ubuntu. C'è qualche altra cosa interessante da dire, la trovo su The Stack, per esempio. Qui si parla della comunicazione di Canonical, di quello che Canonical ha scelto di dire nel blog post di lancio di Ubuntu. Si parla, per esempio, di un linguaggio non proprio user-friendly per i nuovi, per i newbie di Linux, però pare un po' targetizzato ai system administrator, ai sysatmi, perché si parla di improved syscall performance, nested KVM support e access to newly landed BcacheFS file system, insomma, un linguaggio che magari i nuovi o gli utenti semplici non apprezzino particolarmente. E si parla anche di frame pointers by default on 64-bit architecture. Insomma, si parla di frame pointers. Su questo poi ci torniamo, perché i frame pointers in realtà sono una cosa abbastanza interessante. Si dice, qui si menziona per la prima volta, trovo menzionato per la prima volta, che Ubuntu 24-04 era previsto in realtà per l'inizio del mese, ma è stato ritardato il suo lancio proprio per ricompilare tutti i pacchetti che dipendevano da XZ, vi ricordate per la backdoor, per la famosa backdoor inserita in XZ, e quindi Canonical ha dovuto ricompilare tutto, insomma, tutti i pacchetti, per essere sicuro che non includessero quella versione con la famosa CVE 2024-3094, ecco. E quindi è per questo che poi Ubuntu è stata ritardata fino alla fine di aprire il lancio. C'è stato fino alla fine di aprire. E ci sono degli improvement a Active Directory, che magari a voi non interessano, ma a qualche amministratore di rete aziendale che deve gestire contemporaneamente sistemi Ubuntu e sistemi Windows, questi improvement ad Active Directory potrebbero interessare parecchio. E infatti dice, per quelli che mixano appunto Ubuntu, c'è ora Active Directory Group Policy Client, che è disponibile via Ubuntu Pro, e supporta la configurazione Proxy Enterprise, Poi Privilege Management e Remote Script Execution, quindi sono delle feature che Active Directory supporta, e chi gestisce reti con Active Directory, insomma, sarà ben felice di trovare. Inoltre, Ubuntu aveva già introdotto un supporto addizionale alle GPO, quindi queste Group Policy Object, che in pratica sono configurazioni aggiuntive che vanno ad aggiungersi proprio a tutte le cose che si possono fare con Active Directory in Windows e ora anche in Ubuntu. C'è un po' una lista, insomma, se siete interessati, cercate Active Directory e Ubuntu, troverete che ora siamo molto più compatibili a questo protocollo di comunicazione di rete Active Directory in Ubuntu 24.04, e quindi per chi gestisce Windows e Ubuntu. E vi dicevo di questo Frame Pointers abilitato da default, trovo qualcosa di più su NeoWin che parla appunto di Frame Pointers, e proprio il post di Canonical cita Brandon Gregg, che è Computer Performance Expert in Intel, e dice nel suo blog post i Frame Pointers permettono un CPU profiling più completo, e miglioramente le performance che questo può comportare sono molto superiori alla perdita di performance che deriva dall'abilitare i Frame Pointers. Quindi l'abilitazione di default dei Frame Pointers è un win, insomma, è una grande vittoria per i performance engineering e in generale per la developer experience. Ora, su questa storia dei Frame Pointers naturalmente non possiamo entrare troppo nel dettaglio, anche se è abbastanza interessante e vi consiglio di andarvela a seguire un pochino, però sappiate, insomma, a grandi linee che la discussione è tra il liberare un registro della CPU che è deputato alla conservazione di questo Frame Pointer, quindi liberarlo per fargli fare altro oppure utilizzarlo per salvare il Frame Pointer, che non è altro che un puntatore a un'area dello stack. Lo stack è l'area di memoria dove la CPU si salva le istruzioni del programma che sta eseguendo. Quindi il Frame Pointer è un puntatore all'inizio di una funzione, questo puntatore può essere salvato nel registro dedicato, quindi proprio il Frame Pointer, oppure può essere inserito direttamente nel codice con altre tecniche che applica proprio il compilatore, quindi le ottimizzazioni che applica il compilatore. Quindi la scelta è tra attivare il Frame Pointer, quindi utilizzare un registro della CPU per salvarsi questo indirizzo, oppure liberare questo registro, fargli fare altro e salvarsi il Frame Pointer in un altro modo. Questa scelta naturalmente divide tra chi pensa che un registro in più nella CPU, quindi un registro che poi si può usare per altre cose, aumenti le performance in generale delle applicazioni e chi invece pensa che salvarsi questo Frame Pointer massimizzi le possibilità di debuggare, di fare profiling appunto dell'istituzione della CPU e quindi di migliorare le performance che derivano proprio dall'avere questa ulteriore informazione, insomma, e questi miglioramenti siano tali da giustificare anche il lievissimo calo di performance, si parla dell'1-2%, che si ha nel togliere all'uso generale questo registro e utilizzarlo per il Frame Pointer. Poi dovete pensare che le CPU una volta avevano molti meno registri di adesso, questa discussione sul togliere il Frame Pointer parte dagli anni, inizio degli anni 2000, insomma, quando le CPU x86 avevano meno registri, oggi con le CPU x64 ci sono molti più registri e quindi toglierne uno per usarlo come Frame Pointer è un calo di performance tutto sommato trascurabile e quindi insomma poi poter avere queste istruzioni per debuggare, per profilare e per migliorare quindi le performance di tutto il software è preferibile secondo l'interpretazione generale, insomma, piuttosto che liberare un registro e utilizzarlo per altro. Questa insomma è un po' la spiegazione a grandi linee, scusatemi anche se è stata un po' raffazzonata, di che cos'è il Frame Pointer e perché è stato riportato, insomma, abilitato di default in Ubuntu 24.04 perché se ne parla un po', troverete un po' di discussioni in giro. O inoltre sappiate che 24.04 supporta .NET 8 che è l'ultima versione attualmente della framework della piattaforma Microsoft che è open source, lanciato nel 2023, nel novembre 2023 e arriva anche con Rust 1.75. Naturalmente ci sono anche tutti gli official flavor, quindi tutti i vari flavor di installazioni di Ubuntu, da per esempio c'è Kubuntu, naturalmente Kubuntu 24.04, c'è Ubuntu Studio, che è quella dedicata alla creazione multimediale, c'è Edubuntu, che finalmente torna, cioè in realtà era già tornato anche nell'ultima, mi pare, nell'ultima release di Ubuntu, insomma torna ed Ubuntu, quindi che non è la distribuzione dedicata a me, ma è dedicata all'education, quindi con software per education by default, poi c'è l'Ubuntu, che va di default su LXQT, Ubuntu Unity, per naturalmente tornare al desktop manager Unity, per chi è affezionato a Unity, poi c'è Ubuntu Cinnamon, poi c'è Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, Xubuntu, per gli affezionati di XFCE, insomma queste varie flavor di Ubuntu saranno tutti disponibili al download, insomma di quello che preferite utilizzare, e insomma poi avete visto che anche su XFOS si parlava di questo nuovo aggiornamento, di questa nuova release di Ubuntu 24.04, tra l'altro si parla anche di Kubuntu 24.04, con un po' di novità, se volete approfondire che cosa porta appunto la nuova versione di Kubuntu, quindi praticamente Ubuntu con KDE, ma incredibilmente, il giorno dopo, quindi 26 aprile, sono stato abbastanza destabilizzato da questo post, sempre su XFOS, che si intitola tutto in caps lock, I am so disappointed with Ubuntu 24.04, quindi sono molto contrariato, sono incacchiato per Ubuntu 24.04, e perché? E perché Abby è così incacchiato di Ubuntu 24.04? Dice, sono incacchiato per l'arroganza di Ubuntu e la sua parent company, Canonical, dice scusate il linguaggio, non è usato un linguaggio particolarmente feroce, comunque non riesco ad esprimere il mio disgusto in nessun'altra maniera, quindi è abbastanza incacchiato il signor Abby, insomma dice, per anni Ubuntu ha promosso il suo Universal Packaging Format Snap alle spese proprio di Universal Operating System Debian Deb, quindi ha promosso gli Snap a scapito dei Deb, ma questa roba è arrivata al next level con Ubuntu 24.04, perché? Come abbiamo già detto qualche minuto fa, l'installatore ufficiale di Ubuntu, l'app store ufficiale di Ubuntu, non installa i file Deb scaricati da web, e questo in realtà è un comportamento che già c'era con 2303. In pratica se tu scarichi un file Deb, quindi un pacchetto Deb da web, non puoi installarlo utilizzando l'installazione grafica, l'app store grafico di Ubuntu. Se fai doppio clic sul Deb scaricato, ti troverai questo errore, there is no app installed for Debian package file, questo è tra l'altro abbastanza strano, come errore, questa finestra appunto, e se si fa invece il clic destro e si cerca di aprirle con il software center, quindi con l'app center di Ubuntu, ecco che si apre l'app center, ma si apre su niente, e su una pagina che contiene un loader infinito. Quindi non si va su nessun pacchetto, non c'è nemmeno una pagina di ricerca, si va in questo loop infinito con il loader dell'app center. E questo è, pare naturalmente un bug, ma è un bug che a quanto pare, a quanto l'accusa di It's Boss, Canonical ha deliberatamente deciso di non fixare. E infatti è una issue che era stata aperta nel settembre del 23, del 23, madonna, comunque del settembre del 2023, quando c'era Ubuntu 23.10 in beta, Canonical non l'ha fixato per 23.10, aveva tutto il tempo di fixarlo per 24.04, ma non l'ha fatto. E c'è anche un commento sulla stessa issue di uno sviluppatore Canonical che dice che non abbiamo avuto la capacity, quindi non abbiamo avuto proprio le risorse per fixare questo bug con 24.04, ma questa diventerà una priorità per il prossimo ciclo di update. Dice It's Boss, questa è semplicemente una scusa anche abbastanza da sfigati. Chi è che vuol credere? Chi è che vuol credere a questa scusa? Nessuno. E non io di certo. È semplicemente una tattica. Questo bug è lì da mesi e non è stato mai fixato. Dice anche It's Boss, non ditemi che posso usare GDB, Eddie o il terminale, perché chi arriva da Windows o arriva per la prima volta su Ubuntu o insomma qualcuno che ha letto It's Boss o altri blog ed è stato convinto a passare a Ubuntu, magari perché ultimamente Windows sta un po' facendo incacchiare la gente, magari aggiungendogli add nel menu start, e insomma chi arriva da questo mondo e non conosce bene Linux potrebbe risultare un pochino spiazzato da queste cose, soprattutto se scarica del software, se per esempio scarica Chrome dal sito di Chrome e poi prova a installarlo in Ubuntu e non riesce perché appunto il DEB di Chrome non è installabile, ecco questa roba qua è un po' fastidiosa, no? È fastidioso soprattutto da spiegare come prima esperienza a un beginner. Ora l'accusa di It's Boss qual è? È chiaro che Canonical sta cercando in tutti i modi di spingere per Snap e quindi di praticamente superare i DEB, i pacchetti DEB e andare invece verso i pacchetti Snap. L'accusa però è ok Canonical tu puoi fare questo, hai tutto il diritto di farlo, però non farlo in maniera così subdola, farlo in maniera esplicita, cioè di esplicitamente che vuoi supportare i pacchetti Snap, quindi vuoi consentire l'installazione dei pacchetti solo in formato Snap, non vuoi più andare a supportare i pacchetti DEB. Quindi i pacchetti DEB fanno parte di una cosa che tu decidi di default di non supportare e soltanto gli utenti più avanzati, ecco quelli che sanno i rischi che stanno correndo installando DEB, se la vuoi mettere così, lo possono fare spiegando in trasparenza agli utenti che cosa sta succedendo e perché e quali sono le alternative. Insomma, questa è un po' l'accusa di It's Force. Io non ho particolari opinioni in merito perché non uso Ubuntu, ma insomma, questo è quello che pare girare intorno alla community in questo momento. Peraltro, come un'ultima cosa, proprio su MG Ubuntu scopro che non dovreste aggiornare Ubuntu 24.04. Insomma, c'è questo articolo che parla del processo dell'upgrade path dalle versioni precedenti di Ubuntu a questa 24.04 e al momento l'upgrade è un pochino buggato, quindi potreste rendere il sistema completamente inusabile se provate ad aggiornare da una versione precedente alla 24.04, quindi fondamentalmente non fate due release upgrade da command line, comunque non eseguite l'upgrade per ora finché gli sviluppatori di Canonical non diranno che questa roba è stabile e si può fare. Al momento rischia di rompere un po' il sistema, ci sono dei bug importanti proprio nei processi di upgrade che rischiano di rendere il tutto abbastanza instabile, quindi non fatelo, non fate aggiornamenti, se volete provare Ubuntu 24.04 adesso provatelo sulla nuova partizione o in una virtual machine, insomma installatelo in una fresh install, ma non fate l'aggiornamento perché al momento l'aggiornamento pare essere buggato, quindi chiuderei insomma la news su Ubuntu 24.04 dicendo è molto bella ma non aggiornerei. Allora vi lascio infine un paio di link, uno da leggere e uno da giocare. Quello da leggere si intitola HTML Attributes vs DOM Properties e parla appunto della differenza tra gli attributi HTML e le proprietà DOM che pare di essere cose simili, in realtà sono diverse, cioè vengono trattate diversamente a basso livello dal browser e c'è tutta una spiegazione tecnica con dei test proprio che vi fanno vedere che settando un attributo o settando una property su un elemento DOM ecco non è la stessa cosa, ci sono delle differenze e bisogna saperle. Tra l'altro queste differenze i framework ne sono a conoscenza, quindi vari React, Vue, etc., Preact lo sanno che ci sono delle differenze e le trattano in modo diverso. Insomma un post che aumenterà un pochino la vostra conoscenza di HTML, DOM, JavaScript, etc., quindi vi consiglio se volete una lettura tecnica per oggi di leggere questo blog post. Il link naturalmente ve lo lascio nella descrizione e il gioco invece che vi propongo è Keep Out, vedete, a Dungeon Adventure for the Brave ed è un gioco creato da Little Workshop in WebGL, quindi è un gioco che si fa via browser. Si comanda, vedete, con la tastiera ed è proprio un un videogioco, un gioco di ruolo con i dungeon proprio vecchio stile. Vedete, è arrivata la porta, aprete la porta e avete finito il primo livello naturalmente una specie di tutorial per muoversi. Comprate la spada e quindi qua ora finalmente abbiamo la spada. Vedete che con space possiamo attaccare, quindi vum, ecco qua, vedete, ci possiamo girare e tra l'altro questo dungeon è totalmente, guardiamo la pozione, è totalmente procedurale, cioè ogni volta che giocate la vostra avventura sarà diversa perché il dungeon è generato proceduramente. Ah, un nemico! Bom! Ammazzate il nemico, prendete il loot, no, non loota niente, e superate il secondo livello. Insomma, questo è un giochino appunto creato da questi sviluppatori per testare la capacità di WebGL ed è figo che ogni volta che creato, insomma, iniziate un nuovo livello questo viene generato al volo in maniera procedurale e quindi ogni partita è diversa. Ecco un loot, ogni partita sarà diversa e se siete appassionati di giochi di ruolo vecchio stampo in prima persona, chi è che mi sta massacrando questo maledetto? Ecco, potete andare a riprovare queste sensazioni con appunto Keep Out e ora che ho finito il terzo livello vi lascio in questo playthrough di Keep Out ma vi consiglio potete andare a vedere vi lascio naturalmente anche questo link nella descrizione ed è dato un buon modo per sapere, per capire o per dimostrare che cosa può fare WebGL che cosa può fare che tra l'altro WebGL è anche una tecnologia un po' deprecata al momento se sta andando verso WebGPU però insomma WebGL pare ancora funzionare abbastanza bene insomma se volete una demo di cosa può fare WebGL oppure semplicemente passare qualche minuto divertente oggi a giocare a un gioco su browser eccolo qua Keep Out vi lascio il link ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi domani e dopodomani non ci sarò domani sono a Milano per registrare un nuovo episodio di Continuous Delivery e mercoledì è il primo maggio quindi festona nazionale ci rivediamo probabilmente giovedì per un nuovo episodio di questo podcast di Tech News il buongiornissimo detto anche buongiorno da Edo ciao a presto Ciao a presto